Questo è un nostro pallino vecchio che da quando siamo venuti qui abbiamo cercato di combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti fuori dai luoghi che sono adatti a farlo. Vediamo nella città, spesso in tanti posti della città, purtroppo questo abbandono indiscriminato di ingombrandi, di rifiuti ingombrandi. C'è gente che butta il materasso per strada, che butta un armadio per strada, il frigorifero o in posti che non sono adatti. Noi abbiamo attivato anche un centro di raccolta di questi materiali, che è un centro dove si può gratuitamente portare. Nonostante ciò questo è continuato. Abbiamo fatto tanti appelli, ora è finito il momento di fare appelli. Abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione ultima in cui abbiamo avvertito tutti che ci saranno delle sanzioni molto pesanti e anche denunce dove non ricordano le condizioni per certe tipologie di rifiuti. È un reato penale, certi rifiuti abbandonati indiscriminatamente. Overe con le condizioni agiremo in modo inflessibile. Ho dato disposizione al comando della Polizia Municipale di attivare dei servizi di pattugliamento anche notturni. Abbiamo posto dei cartelli nelle postazioni più sensibili e attiveremo anche un servizio di telecamere di modo che da individuare in maniera puntuale e precisa chi, nonostante tutti i solleci, nonostante tutte le informazioni che abbiamo dato in questi anni, continua indiscriminatamente a buttare rifiuti e quindi a costruire un'immagine negativa della città solo perché alcune persone continuano a non voler capire che ci sono delle regole da rispettare per vivere in un paese civile.